Immagina che oggi dobbiamo partire Era così congestionato e stanco che non riusciva a concentrarsi su... poi è normale che io penso a quello che io ho fatto mi sono venute le bolle sotto i piedi guarda qua perché pure scoppiate tra l'altro, piena d'acqua cioè capisci io ho fatto quello che potevo non è che... eh lo so ognuno